Bella ragazzi, ben tornati qui sul canale di Grananas e siamo tornati con un nuovo episodio di Disegna il Pokémon Visto che vi è piaciuto tanto l'altra volta, il video che abbiamo fatto dei Pokémon per chi vi siete tagliati a vedere come noi eravamo bravi a disegnare Sì, soprattutto io E quindi, vabbè che tanto qua sopra stiamo vedendo certi disegni che forse noi eravamo molto bravi Ma più certo io vorrei capire che cos'è questo Ma questo è un giapponese che si è divertito da scrivere cazzo in giapponese Sicuramente tipo Scemo Chi Legge Cioè, Scemo Chi Legge Scemo Chi Legge Vabbè, comunque Oggi siamo con un nuovo episodio e comincio io Ok? Vai, vai, cominciate BAM! Cominciate Allora Cominciate, vai Fammo il piedino Che cazzo è sta cosa? È una mano È per brigarsi a fare la mano perché poi non c'è più tempo Ah, sì Io direi che hai rovinato, è arrivato tanto bene Ma che è? Aspetta Ma che cos'è? No, lo sai che non si può cambiare Gli addominali Ma che cazzo è? Ma non lo stai capendo Non si può capire Questa qui sembra la bocca Eh, cioè, pare tipo un drago con i baffi, capito? Vabbè, regà, non lo potete capire Era Machop Che gran Picasso che abbiamo qua Vai Ecco, ammazza che stronzo Vabbè Con questo dettaglio capirete tutto Questo piccolo pene C'è sta, eh Mamma mia Non so manco Comunque non sta avvenendo malissimo, dai È solo che dovresti migliorare un po' la testa Se non fai la testa è un po' difficile Uh Dai, se potrebbe capì Se potrebbe capì Uh Uh E voi l'avete capito? No Era? Marowak Porca troia Marowak Che in realtà io pensavo di sta a disegnare un coupon Però vabbè Un coupon? Un coupon Un coupon Un coupon Oggi sconto su Oggi sconto su Pokéball Ultraball a sconto coupon Con il coupon Cupone Ma dai, ma come lo faccio questo? Questo è mio però Che spettacolo Ah, giusto Ma come lo faccio questo? Ma dai, è una cazzata Ma come è una cazzata? Ma come è bastato di disegnare la parte sopra e hai fatto, cioè Non è che Ok, disegno solo la parte sopra Magari un po' meglio la potrei disegnare, eh Ma già così si capisce Cioè Ah, questa sembra un ananas Ma non lo è È un gran ananas in realtà Eh, appunto Pezzi Poi qua ci stanno le foglie Ops Che indizione Ci stanno le foglie Oh Ci stanno le foglie Voglio lama Oh Ah, hanno capito Charmander Coso Bulbasaur Non mi ha spinto E quindi è l'evoluzione di Bulbasaur che è È, è In realtà è l'evoluzione di Ivisaur Come dici? Come dici amico mio? Del fantabosco? Sì Venusaur Sì, perché peccato che non è l'evoluzione di Bulbasaur Però Vabbè Va bene Non lo so Non sei bravo È l'evoluzione massima Va, mamma mia Che spettacolo Che spettacolo Oh Fate, fate finta Questo è un pene Ok Tac Che non c'è nei veri pochi No, in realtà non c'è Perché è censurato Che se no ci sarebbe Questa è una mano Questo Un'altra mano Che non era così Però va bene comunque E questo qua È il segno del vento Quando sposta quei calci Capito? Ma Stavina creativa Licenza creativa Mamma mia Non si capisce un cazzo Ma come si capisce È il pene Quanto malissimo È il pene che fa Vabbè Era hit molly Hit molly Comunque c'è stato È il do malissimo Sì È abbastanza tosta Stavola Vai Vabbè ma là Vaffanculo Vabbè questa è una cazzo Oh vaffanculo Basta Ecco Gli hai detto Allora facciamo questo E questa cazzo Ma che l'hai attaccata la testa? Ma che cazzo? Ma che cosa stai facendo? Eh Sto stupito qua Ma che mi hai stupito? Ma che? Vabbè però dai C'è sta Ma non si capisce il cazzo Dai Perché è di petrolone È articuno Eh sì Dai c'è sta Ma che c'è sta Guarda l'ala L'hai attaccata la testa Vabbè questo è culo No questo non è culo Questo è difficilissimo Mazza oh Mamma mia Pecci Dai mo si capisce Sì mo si capisce Ma si capisce pure prima Penso Un pancetto Un pancetta di gambero È un cavalluccio marino in realtà Anche se non lo dovevo dire Però va bene Tanto si capisce Perché è? Orsi Orsi È toscano È orsi Mamma Ecco Con questo capite tutto Eh sì Con questo capite tutto Anche se bastava che tu fecesti due cose Sì lo so Infatti me lo sto facendo No Sì sì un attimo Un attimo Non era quello Lippibosi Ma che cazzo è Ma aspetta che hai fatto Cucchiaino Cucchiaino Beh bene Sì Comunque si manda di meglio l'altra volta Anche sì Abbastanza Vabbè che questo era Veramente difficile Però è Il Pokémon più forte di tutti Sì con la telecinesi Vuole farvi mettere mi piace Adesso Vabbè ma comunque ci sta dicendo male Eh lo so Però questo qua Si deve fare perché è troppo bello Ma che cos'era questo? Non ci sta Sì sarebbe questo qua Non perde tempo Madonna mia che merda Che è diventato sto coso Bello È diventato un canguro Qua c'è la pancia Questo è un corno Che sembra più Ma non è questo il corno? No Beh però muovi che hai detto corno Fatto E questo è il marito di Midorina Infatti c'è i corno Basta È Raito Ma che triste sta battuta PAM Vai Questo mi è proprio dimenticato sto Pokémon È troppo forte sto Pokémon Cioè è poco figo capito? Poi c'è pure l'evoluzione Come fare sull'altri Ma come lo faccio questo? Dai una cazzata Senti io non so come Sì si capisce Non so come fallo Si capisce molto eh Non so È troppo difficile Dai ci sta ci sta Ma ci sta che? Ci sta ci sta Ma che cazzo dici? Ma che ci sta? Ma che è? No io mi vergogno Non lo favo vedere questo No no lo fai vedere Era Fai E là ci piace Oh mio Dio Mamma Ma come ci sta impegnando? Eh sì eh Questo lo fa bene Cazzo Incredibile È molto strano Cioè non è venuto male Però non Non si capisce Allora questa è la cosa più importante Ah ah Poi c'è sta La pucuccia Eh sai Penso che Una delle cose Molto importanti È che dovevi far capire Che fosse Un pesce Vabbè si capisce che è un pesce No Non si capisce che è un pesce Come no Guarda come te guarda C'è il mancime Vabbè la Goldin Goldin dai Jukong Questo si fa Un more Io non l'ho mai trovato Ti fai Si è sporco qui Molto Comunque Non l'abbiamo disegnato questo Perché c'era poco tempo È finito l'episodio E quindi Se vi è piaciuto E ne volete altri C'è lo scrivete Porca droga Perché guardo là E ci mettete 2000 mi piace Perché se lo merita Perché i pokemon Se lo merita Perché lui come artista Vorrebbe emergere Quindi 2000 mi piace Perché La decoraggio La casam Ve lo sta ordinando Comunque questa cosa è molto triste E niente Noi vi diciamo Bella Ci vediamo al prossimo video Stasera esce Dotutdition1 Domani La sfida Di granas Ogni goal Un qualcosa Non vi spoderemo nulla Stateci Bella Ciao 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 Ciao